non ha mai consultato i cittadini. E a proposito di Bologna è stata inaugurata questo pomeriggio con tanto di banda musicale la nuova piazza Re Enzo. Si tratta dell'ultimo pezzo del cantierone che ha visto la ristrutturazione delle principali vie del centro storico. Ripavimentata la piazza avrà un uso diverso, potranno sostare al massimo 5 taxi. Finalmente quello spazio smette di essere il retro bottega di piazza maggiore e acquista una sua identità urbana, detto Carlo Santacroce, l'architetto che ha curato il progetto di riqualificazione. Domani torneranno anche pienamente a funzionare i bus dopo un anno.